Oh, felicitazioni, vedete, si vedi alla linea, 80 anni di CCCP, ah, dal giovedì, dalle 10 alle 19, 24, 8, 24, questi sono gli orari, Palazzo Magnano, Fondazione, tutti gli sponso, gli parco, e poi, allerta stop, contempla, letta, punk, giafilo sovietico, e musica melodica, memorie, danni collaterali, allerta stop, inquieto, l'orizzonte, Chiostri, San Domenico, vedete, intanto ci accontentiamo di questo tipo di inquadrature, di qualche secondo palazzo che ha spento l'insegno, vedete, e ho visto Giovanni Vignali, portavoce del sindaco, ma insomma, anche lo spettacolo Teatro Valli, che meritava la mia attenzione, un laboratorio aperto di Reggio Emilia.